Amici di motorsport.com ben ritrovati con un altro dei nostri video in questo caso molto particolare ed emozionale perché siamo nel weekend delle finali mondiali Ferrari e in realtà non siamo in autodromo come potete ben vedere ma siamo nella sala ridotto del teatro e i bestignani di Imola le finali mondiali hanno una caratteristica quest'anno hanno unito la pista con la città il perché di questa idea ce la racconta Mirko Lazzari che è uno dei fotografi che ha immortalato le Ferrari in pista in questi anni e al quale chiediamo di raccontarci un po' tutta questa questa novità perché di fatto è una novità per le finali Ferrari ciao a tutti e sì allora queste questa mostra fotografica nasce da un'idea del sindaco di Imola Marco Panieri e serve per celebrare il ritorno sul circuito imolese della delle finali mondiali dopo 23 anni se ricordo bene e niente l'idea era appunto quella di raccontare Imola perché l'anno prossimo saranno 70 anni del circuito perciò se un po' introdurre questa questa ricorrenza Enzo Ferrari di cui il circuito porta il nome insieme al figlio Dino e che per Imola è stato assolutamente un amico uno sponsor chiamiamolo così del nostro circuito e poi appunto la Ferrari stessa la casa di Maranello che come ho detto ha riportato a Imola questa competizione importantissima delle sue macchine. Niente riguardo alla mostra racconta una stagione principalmente l'ultima stagione in tutte le sfaccettature di quello che è il mondo Ferrari cioè dalle competizioni GT al mondo clienti alla Formula stessa con immagini scattate esclusivamente a Imola durante il gran premio che si è svolto qui ad aprile del gran primo punto dell'Emilia Romagna. Una cosa molto bella è il vedere mischiate le arti perché il teatro è recitazione i piloti recitano una parte in circuito i fotografi immortalano nel disegno nell'animazione nella fotografia anche nei video di fatto quello che è l'azione in pista e di contorno a quello che è diciamo una recitazione c'è la musica. In questa sala per esempio ci sono le immagini che sono stupende molto emozionali e spunta fra queste foto un bellissimo pianoforte quindi un mix delle arti. Tu Mirko sei un artista quindi raccontaci un po' quest'arte della fotografia e come si immortala rendendo artistica un'azione in pista. Dunque innanzitutto la mostra è composta da immagini di due fotografi che uno sono io Mirko Lazzer e l'altro è Roberto Viva fotografo Ferrari dal 1999 e segue tutto quello che è il mondo Ferrari dalle competizioni alle scuole di pilotaggio alle corse clienti e perciò probabilmente il fotografo ha una più ampia apertura sul mondo Ferrari conosce nei dettagli mondo Ferrari. Io ho avuto la fortuna di vivere questa stagione al suo fianco seguendo principalmente le gare del WEC che peraltro tra due settimane del quale si disputerà la gara finale tra due settimane con le Ferrari ancora in lista per il titolo sia piloti che marche e appunto diciamo così è un connubio tra queste due fotografi e delle immagini di queste due fotografi le mie un attimino forse più artistiche quelle di Roby molto belle e molto descrittive di quello come dicevo che è l'evento Ferrari. Prima in un dietro le quinte curiosissimo Mirko ci hai detto che bisogna sempre cercare di alzare l'asticella perché al giorno d'oggi comunque fare il fotografo professionista e in maniera professionale non sono in realtà la stessa cosa quindi bisogna eccellere in qualcosa. Una domanda curiosa qual è la foto più semplice che si può fare ma che in realtà può catturare quel qualcosa per farla spiccare. Domanda per uno che ha l'occhio chiaramente. Beh io tra quelle scattate diciamo così semplici semplici non è che ce ne siano proprio tante nel senso che anche l'immagine che per te può essere più scontata più facile da fare in realtà dietro c'è un pensiero c'è un qualcosa che tu vuoi trasmettere e se riesci a trasmettere con questa immagine in automatico hai colpito nel centro diversamente una foto normale scontata. Potrei dire non so quella dello scudetto Ferrari a Monza è riapparso lo scudetto vero primo capostipite diciamo così di una storia molto bella che è quella del marchio del cavallino rampante. Si può fare in tanti modi lo puoi fare piatto puoi fare di taglio in modo da trasmettere un po' di profondità e il pilota aveva aperto lo sportello si era formato un riflesso sul vetro dato dalla luce che entrava dal box ecco alla fine è venuta un'immagine che un mix tra il raccontare il mostrare lo scudetto e mostrare speculare tutto il riflesso che creava nel vetro e questo è diciamo così in una foto semplice statica ferma dove la macchina è riparcheggiata delle volte devi cercare la sfumatura per renderla più più sfiziosa. Quest'anno il Ferrari Challenge festeggia i 30 anni dalla sua nascita e caso vuole che in questa mostra ci siano appunto 30 foto non solo di Mirko Lazzari come dicevamo prima ma anche di Roberto Viva che è il fotografo Ferrari che immortala tutto quello che ruota intorno al mondo del cavallino rampante queste 30 foto in realtà sono uscite da un bel po' di altre foto quindi la domanda che facciamo a Mirko è come le avete scelte e ovviamente cercando di prendere quelle che più rappresentavano le emozioni del cavallino rampante. Sì effettivamente non è stato facile racchiudere in 30 foto come appunto agli anni delle finali mondiali tutta questa mostra. Roberto mi aveva mandato già di su una prescelta e dalla quale ho estratto diciamo così un certo numero di fotografie che erano sicuramente quelle che a me emozionavano di più. Il vantaggio di quando la fotografia la sceglie un'altra persona è quella che legge la fotografia non per quello che è la difficoltà tecnica o le emozioni che hai provato quanto per quello che la fotografia trasmette. In questo caso ad esempio questa immagine che non è di quest'anno ma è di due anni fa del 2020 io l'ho scelto ugualmente cioè sono uscito un po' dalla linea della stagione 2022 perché è un'immagine di di tanta bellezza graficità eccetera mi aveva colpito ecco anche perché è molto difficile da fare nel senso che organizzare questa immagine e questa tutte le macchine in ordine è comunque un lavoro abbastanza impegnativo. Il colpo diciamo così di genio poi è stato invece accendere i fari e creare questa sorta di incrocio di luci che ha dato un sapore assolutamente particolare a questa questa fotografia è una delle mie preferite. Rimarrete di stucco in realtà non è una frase fatta che mi sono inventato sul momento ma è il motto con il quale il teatro e bestigiani di Imola ha riaperto nel 2010 dopo un grande lavoro di ristrutturazione. Diciamo che la frase si può tranquillamente abbinare alla mostra perché in queste 30 immagini che sono esposte qua su più piani e in più stanze ce ne sono alcune veramente fantastiche. Ora chiediamo a Mirko quale di queste immagini diciamo la sente più sua e un aneddoto che c'è dietro una di queste foto. Dunque le immagini che sento più mie sono quelle che trasmettono velocità perché è un po' il mio stile, i marchi di fabbrica come definiscono alcuni e di conseguenza le strisciate di colore sono sicuramente quelle che più mi appartengono e mi caratterizzano. L'aneddoto però è di un'altra fotografia che è quella che abbiamo qui al mio sinistra e qui siamo alle mani. Volevo questa immagine fatta con un tele da lontano per trasmettere la profondità di tutte queste impalcature per aiutare i micanceli nel rifornimento eccetera. Giusto che di giorno c'era sempre qualcuno e non riuscivi mai a trasmettere questa dimensione e soprattutto ad avere l'immagine pulita con la macchina che si vedesse tutt'intera, che ho aspettato le quattro e mezza di notte, tutti sono finalmente andati a dormire, io mi sono messo a inizio box con i miei tele lunghissimi e niente finalmente si è aperta, spalancata la porta sulla macchina, da lì sono riuscito a scattare questa immagine dove i meccanici sono al lavoro però ripeto la macchina è completamente sgombra da persone che non la coprono. Ecco, aggiungo anche un'altra cosa, in questa stanza non c'è solo la fotografia protagonista ma anche un gioco di colori particolare, bisogna che ce lo racconti e che ce lo spieghi. È un in bocca al lupo diciamo così che noi, la città di Imola, tutti danno alla squadra che tra due settimane si giocherà il titolo del WEC in Bahrain e niente, abbiamo cercato di trasmettere un po' l'italianità di questo che è legato appunto alla Ferrari, con la quale la macchina stessa che partecipa al WEC che appunto è caratterizzata e niente, in questa zona, diciamo così col tricolore bianco, rossa e verde, sono tutte immagini legate a questo campionato e che sono state scattate durante questa stagione appunto dalle strisciate ai piloti in un momento di relax prima di una foto ufficiale, a una foto splendida di Roberto Viva scattata a Spa dove è tornato al media center, alla sala stampa, bagnato con un pulcino per lo scrocio d'acqua che è venuto, ai meccanici, protagonisti assoluti insieme ai piloti e alle macchine di questo campionato che festeggiano alle manne e poi niente, poi i mossi che sono un po' ripeto il mio, quello che, la foto che a me piace scattare. Allora, la mostra in realtà, adesso lo diciamo, è aperta dal 29 di ottobre, quindi sabato, fino al 6 di novembre, cioè domenica della settimana seguente, è aperta dalle 16 alle 19 e naturalmente per chi può e chi ne ha voglia invitiamo tutti a venire a vederla e soprattutto a cogliere quelle che sono state le emozioni che Mirko e i suoi amici e colleghi ci hanno voluto trasmettere. Quindi non facciamo altro che ringraziare Mirko e grazie e ovviamente buon lavoro per i prossimi impegni e dare tutti appuntamento al prossimo video di motorsport.com